Bruno Cerella è tornato a Teramo, questa volta non per il basket ma per un altro sport, il padel in questo caso. Intanto questa esperienza di padel? No, intanto sono qui per amicizie più che altro, prima del padel, perché sono scarso ma ci divertiamo. Mi è toccata la coppia con Giustino Danessi e pensavo peggio ma ci siamo divertiti, abbiamo perso all'ultimo punto, quindi va bene così. Da un punto di vista dell'annata agonistica come si è conclusa? La verità non si è conclusa come avremmo voluto, diciamo che è stata una stagione difficile per noi, gli obiettivi che c'eravamo posti un po' come squadra non li abbiamo raggiunti, quindi ci può stare, fa parte dello sport, merito a Tortona anche che ha avuto una grande serie di playoff contro di noi e non solo. Adesso bisogna anche rilassarsi, staccare un po' la testa. Ti abbiamo visto nei giorni scorsi sugli spalti del forum perché l'affetto per Milano resta sempre, Milano che è tornato allo scudetto. Sì, è stato bello perché va bene, le amicizie con l'Olimpia ancora ci sono come Giustino che è stato il mio preparatore, ma tanti altri giocatori mi fa piacere perché è una mia ex squadra e la città anche che ho scelto per vivere, mi fa piacere che Milano sia tornata a vincere, se lo merita la proprietà e tutto lo staff e i giocatori che la verità hanno fatto un grande lavoro. Per quanto riguarda Bruno Cerella, tornare a Teramo è sempre un grande piacere. Sì, ho grandissimi ricordi, infatti ogni volta che metto piede in questa città mi vengono brividi e tanti bei ricordi dei quattro anni passati qui.